Dopo il nuovo aumento del costo del danaro deciso giovedì dalla Banca Centrale Europea si prevedono effetti molto pesanti, in particolare sulle rate dei mutui immobiliari. Gli ultimi dati sono della Fabi, il sindacato dei bancari, e precisano meglio le stime inquietanti avanzate finora dopo il nuovo rialzo dei tassi deciso giovedì dalla BCE e anche in previsione di quello che sembra dover arrivare a luglio. Le rate dei nuovi mutui a tasso fisso sono destinate a raddoppiare nel 2023, mentre quelle a tasso variabile dovrebbero crescere mediamente del 60%, oltre agli incrementi già registrati sin qui. Per un mutuo 25ennale da 200.000 euro, il tasso applicato potrebbe arrivare al 6% per un esborso mensile di circa 1.300 euro. Sono 3 milioni e mezzo le famiglie che hanno sottoscritto un mutuo, poco meno del 40% a tasso variabile. Quali le soluzioni? Purtroppo la surroga con un'altra banca ha al momento spazi quasi inesistenti. Ci si può sempre rivolgere al proprio istituto, ma senza farsi illusioni, avverte Lando Maria Sileoni, segretario della Fabi. Chiedere consulenza alla persona di fiducia che ha, o il direttore o il gestore, ma soluzioni immediate, pratiche, concrete, efficaci, al momento non ce le sono. Fabio Comini, GR1